Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione dell'ultima runa nel livello pinnacolo d'ossidiana in Minecraft Dungeons. Una volta che avete finito il gioco, avviate di nuovo l'ultimo livello e fatevi tutta la parte iniziale, fino a quando non arrivate nel castello, in questa sala per la precisione. Quindi, partendo dal dungeon in alto, da dove siete arrivati praticamente, scendete fino in basso a raggiungere questa sala praticamente. Una volta fatto questo, eliminate tutti i nemici, ce ne sono veramente tanti, interagite con la libreria qui. Ripeto, dovete finire il gioco altrimenti non potete prendere la runa. Fatto questo, attendete che si apra il passaggio ed eccovi qui la runa. Non solo potete recuperare l'ultima runa, ma avete la possibilità anche di aprire questi forzieri che hanno, come potete vedere, tantissime gemme.